ho fatto una cazzata signori miei carissimi intanto ben ritrovati sul canale col nostro bel pinocchietto andiamo avanti riprendiamo non proprio dove c'eravamo lasciati lo potete notare vi metterò a breve la clipina perché vi spiego velocemente volevo farci il video su questo pinocchietto abbiamo sempre fatto le live eravamo arrivati contro questo boss becerissimo ho detto prima di registrare faccio un attimino per prenderci un po la mano dato che un po che non giocavo e l'ultima volta dopo morbid sembravo neanche normale vuoi il nervosismo della della linea che continua a crashare vuoi il fatto che appunto morbid mi ha distrutto i timing e sostanzialmente sono entrato nell'arena ho detto beh vabbè intanto ci provo e ragazzi io avevo dato per scontato che finora i boss bene o male tutti avevano la seconda fase e sostanzialmente l'ho sciolto l'ho sciolto e dopo ho detto cazzo no ma non c'è la seconda fase poi ho detto beh vabbè intanto così do un occhio se c'è la seconda fase sono già un po più preparato e invece no invece non ce l'aveva detto questo mettiamo a posto la nostra falce della morte incredibile stupenda quest'anno mi piace molto questo coso un po lentina però vabbè chi se ne frega e vi metterò a breve la clipettina per farvi dalla boss che è stata orribile c'è non 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 Grazie a tutti. 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 Rientriamo per l'ennesima volta. Me lo chiederà ancora, no? Ah, devo accendere la lanternuzza. C'ho anche 16.000 euro che mi ha dato il boss. Sì, sì che praticamente ho capito dopo, è il primo boss mutato era. Cazzo. Ipocrita. Nooo, 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 nooo. No, nooo, 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 nooo. Ho dovuto. Sto iniziando il discorso per l'ennesimo trasloco, quindi sono molto incasinato. Poi ci sono altre cazze. Abbiate pazienza. Va bene, qua abbiamo preso gli zecchelli. Ma tu ci sei ancora? Mi faccio un giro perché è successo qualcosa di becero. Ah, tu ci sei? Dimmi qualcosa. Oh, Giangio! Mr. Stalker, pensavo fossero di nuovo gli intrusi. Eh, sono arrivati i bastardi, gli alchimisti. Sono stato nascosto qui, eh, sotto la luce. Invisibile. È la prima volta che esco. Mi hai colto di sorpresa ma non farai intendere, sei sempre il benvenuto, persecutore. Stalker, porra. Eh, vabbè, io intanto compro qualcosa perché le ho usate. Quante ne ho? Quantità nella borsa, una. Quella della stamina non ne ho. C'era anche... Sì, questa che però... Quando attacco... Eh, vabbè, dammi un po' di queste. Dammi anche una di queste, vabbè. Parlare niente? No. Vabbè, andiamo... Andiamo a scoprire... Io andrei subito dal geppetto perché... È il sentore che ho da... Dal primo incontro. E secondo me non mi sbaglio. Quel geppetto qua, puzza. Merda, è chiuso. Bussa alla porta. Bussano a quest'ora della notte? No, del mattino. Chi c'era mai? Andiamo a vedere. Eugenia, eh? Si sono barricati tutti qua? I super mega alchimisti non sono riusciti a sfondare in portone. Si mette bello dritto. Eh, c'è la vecchia, verrà... Ah, ok, sono tutti qui. Geppetto è stato rapito. Sì, eh... Ci credo. Accendere. Si faceva così. Devo comprarmi anche della roba, cazzo. Ciao, zia. E' la cosa peggiore che ci sia. Essere intrappolato. E' buono essere libero. Oh, scusate. Sì, fammi un regalo. Quando sei entrato mi hai ricordato il Segugio. Probabilmente perché entrambi mi avete salvato... Sì, ma è un pezzo di merda, Segugio. Ma mi metti a posto le armi, poi? Io ho dei quarzi, tra l'altro. Dei quarzi incredibili. Iiii! Ce l'ho! No, beh, subito, eh. Non me ne frega niente di quello che hanno da dirmi, cioè... Facciamo un po' di... Un po' di lore, dai. In questo episodio. Se non so come lo monterò. Allora, abbiamo detto che qua ce ne vogliono quattro. Quindi non so quanto manchi alla fine del gioco. Sbilanciamento. Però questo me lo dà quando lo completo tutto. Forse mi conviene andare a fare qualcosa all'inizio. Figa, ma devo fare tutto? No, dai. Eh, l'intervallo di sbilanciamento. Qua sono due slot. Altrimenti... Questo è il recupero. Ah, quando subisci danni. Ma sì, ma tanto se non hai le cure. Questo è fatto tutto. Questo cosa fa? Aggiungi slot e cintura. No, faccio già abbastanza casino. Ma il cubo te lo puoi tenere. Aumenta gli utilizzi della mola. Questo non è male, ma me ne servo un tre. Guarda, io faccio sbilanciamento uno. Se trovo un altro quarzo, almeno ci becchiamo un power up. Qua la fase 5 l'abbiamo vista. Non penso di trovarne altri quattro. Magari sì. Magari sì. Questo ti dà direttamente il 2. Figa, è buono. Cubo non me ne frega niente. No, braccio non me ne frega niente. Recupero, guarda. Guarda, faccio così. Faccio così e ci metto. Vediamo se mi ha sbloccato anche sotto. Esatto. Aumenta il tempo degli effetti delle arti. Aumenta la durata dello sbilanciamento 2. Buono. Questo già potrei metterlo. Migliora l'attacco con attacco fatale 2. Eh, cazzo. Mica male. Migliora. Sbilanciamento causato dall'attacco alle spalle. Non me ne frega niente. Vediamo tutti. Tutti i perchini disponibili. Aumenta le celle a impulso 5. Ah, più cure. Eh, però anche un po' più cure. Riduce i danni in caso di schivata. Eh, madonna. Capacità. Mica male. Mi sa che ne farò le cure. Non c'ho bisogno. Durevolezza. Attacco caricato. Carica automatica legione. Figa, mica male anche questo. Qualcosina già abbiamo, secondo me. Catalizzatore. Riduce la perdita. Non mi interessa. Carica favola dopo l'utilizzo della cella a impulso. Buono anche questo, cazzo. Mica male. Guarda, metto prima la fialetta. Metto prima la fialetta. Vai. Infatti adesso una mela data. Vediamo poi, quando ci sediamo, quante no. Dovrei averne una decina. Dopo, poi, potrei optare per la favola che si ricarica. Non avrei mai immaginato che i persecutori attaccassero l'hotel. Tu non hai fatto niente. Questa qua è tutto. Tutto il gameplay che si chiede cosa sta succedendo. Nonna. Com'è? No, Geppetto. Fa una guarda a Polentino, sembra Russell Crowe. Come nascosti qui, vuoi? Ma non c'è l'ascensore? Come ha fatto a portarti su te con la sedia a rotelle? Falsa invalida anche lei. 104. E lì dietro l'hotel aveva un accordo con gli alchimisti tempo fa. Ce l'avevi già detto, che potevi dirci anche prima. Ma suona questa nota sul pianoforte in camera mia. In camera. In camera? Aspetta. Oddio! Ah, sono tornati giù. Madonna, furioso, eh. Ok. Faccio sempre la pertica al posto del naso. Ma non posso in questo momento, ho evitato. Sono tornati alle loro postazioni. Immagino di sì. Come fare un giretto. Sì, Polendino è là, quindi siamo a posto. Ma, quindi, non intendi questo pianoforte? La sua camera? Intendi questa camera? Eh no, è qua. È qua. Ma adesso non è a camera. Vabbè, nel salone, quello che è. Ciao, Polendino. Scusa, più che altro mi preoccupa che tutto ciò abbia sconvolto la signora... Sì, madame, questo è innamorato. Sì, io ho trovato anche, secondo me, vedi, aggiungi prodotti, ho trovato una roba... L'avevamo trovata forse insieme, non ricordo, ragazzi. Sì, fammi vedere. Grazie. Dai! Vendi cosa c'ho da vendere? C'ho questi cosi che non li voglio mai. Non voglio chiamare soldatini. Oh, cazzo, c'ho anche una di queste. Buono. Buono. Eh, basta, comprare. Cosa mi hai aggiunto di grazia? Un quarzo. Dimmi che c'hai un quarzo. Eh, godo. Sì, sì, compra subito. Vai, godo tantissimo. Hai anche uno di questo, ma... Aspetto. Questo cosa fa? Un dispositivo archivazione lo devo dare a Venigni. Mille euro, dammi, dammi. Magari facciamo una secondaria. Facciamo un po'... un appuntamento così, poi non so se magari ve ne registro un altro, perché... Non so quando torneremo in live. È così, amici miei, cari, belli, dolci, fragranti. Strano, sembra che fatta la mia memoria e mi sia... Eh, vabbè. Fa malissimo, non è come una ferita vera, ma comunque. Eh, ma comunque, per forza. Che lo fai? Prego, prego, pulsinella. Baderà a padron Venigni, vero? Sì, sì, bado io. Bado io, vai. Grazie per un'altra risposta. Un'altra, eh? Mi sembra di trovare un'altra volta in un'altra parte. Va bene. La posta in gioco è alta, ma il momento critico mi blocco. Bravo, figa, quando c'è il momento opportuno per entrare in azione, zero, eh. Un ceppo, proprio un tronco di legno. È geniale, però, per forza. Fear not, eh, fear not. Dai, Dio Cristo. La tragedia dell'Alecchino non deve ripetersi, devo trovare un modo per impedire ai burattini di far male. Sì, la luce brilla più forte nei tempi più bui e tu sarai la prima luce, conto su di te. Va bene. Mi fai il coso, grazie. Porgi. Stavo un po' impazzendo, come dicono i poeti, chiuso in hotel. Perché non leggo i contenuti? Sono stanco di leggere le conversazioni tra le elite e la società. Nascondi questo, uccidi quello o ruba quelli. È tutto uguale, vabbè. È un uomo semplice, eh. Cosa potrebbe andar storto? Happy. Grazie per avermi ascoltato, un piccolo extra per te. Dammi i soldi. Ok, fa vedere, dettagli. Ah, mi apre il cancello, grande! Là dove c'era Ugo. Là è fin short. Adesso ci torniamo. Trova la grotta bloccata dalla sbarra metallica nella paludra desolata. C'è una ricompensa. Sì. Come faccio ad aprirla, però? C'è un luogo chiamato Grotta dell'Eremita. Un vecchio impazzito dopo aver perso la sua famiglia si era inchiusa lì per pregare. È strano in quest'epoca sentire una storia del sapore medievale a Krat. Ma una cosa è chiara. È un buon posto per nascondere un tesoro. È il One Piece. Lasciamo perdere il vecchio pazzo. Nascondiamo i beni rubati, li prenderemo quando la situazione si sarà calmata. Chi sano di mente immaginerebbe che c'è un... No, guarda, si vede dalle sbarre, ma fa lo stesso. Anche i vestiti di quel bambino sembravano di buona qualità. Forse la ragazza Wolf li ha sistemati. Va bene, sappiamo dov'è, quindi no problem. Intanto che sono qui, posso fare cose? Basta. Alidoro è scomparso, eh? Eh, non puoi, eh? L'hotel possiede delle misure di sicurezza contro gli intrusi umani. Era strano che non si fossero attivati durante l'attacco. Doveva aver disattivato... Eh, bastardo, lui è... Pezzo di merda. Eh, è un bastardone. Sì, adesso è inutile. Va bene, posso fare qualcosa alle armi? E che cazzo? Potenzia! Ah, non va bene. Io, ragazzi, sono innamorato di questa. Io, guarda, questa, a prescindere, la voglio buttare su. Ne vale la pena, secondo me, no. Ah, c'ho anche la katana. Figa, la katana non è male, eh. Ah, serve già quella lì, eh? Che non ce n'ho più. Le potevo comprare, forse? Ce n'aveva qualcuna? Guarda, a prescindere, io questa... La voglio buttare su. E con questa la potrei mandare a... Dieci. Vabbè, è un'arma normale. Io lo faccio. Dieci sarà il massimo? Chi se ne frega. Testiamo. Arma normale più forte. Trofeo guadagnato. Buono. Buono. Solo che... Solo che... Adesso vado a vedere... Montarmi. Ad esempio, io quella lì la usavo con il mio manico prediletto. Quindi, lama più dieci. E il mio manico prediletto era... Questo... No, non questo. Era questo. Che fa forza. E questo qua cos'è che fa? Figa, forza motrice A. Due... 42 più 81, mica male. Però, impugnatura del sega ossa. Secondo me è lenta in culo e corta. Questa... Beh, fa 70, eh. Non è che faccia cagarissimo. Guarda, intanto rifacciamola. Perché comunque mi piace un botto. Mi sono innamorato dall'inizio. Altera impugnatura. Questa io ce l'ho con forza motrice. Metterla su tecnica. Mi si abbassa di 11. E sviluppo non fa niente. Mentre invece... Dov'è l'altra? Questa qui... Fare sviluppo no. Due 42 più 70. È già in forza. Due 42 più 58. E qua abbiamo detto invece... Due 29... Siamo molto lì, eh. Siamo... Siamo lì. Siamo limitrofi. È vicino. Aspetta un attimo, zia. Vado a vedere se qualcuno vende... Robi interessanti. Tu no. Tecnica. Sviluppo. Piccolarini. Richiedi valutazione? Non ho nulla. Perché non mi ha dato coso. Che senso di... Di desolazione che c'è dopo l'attacco. Mi piace... Eccole. Ma figa, non c'ho i soldi. No, le compro... Qua ne ha addirittura due. Allora, questa me la compro. Questa me la compro tantissimo. E invece che fare dei livelli... Investo qua, dai. Investo qua. Investo. Non è che io abbia tanto, eh. Eh, cazzo. Non ho niente. Mi tocca farmare. Ma dai. Sei matto. E il coso non mi ha dato un'anima. Non mi ha dato niente. Quell'altro mostro lì. O l'ho appena usata e sono stupido. Può anche essere, sai. Potrebbe anche essere. Buongiorno. Buongiorno. Io compro con questi soldini... Non compro un cazzo perché... Mi servono 8000. Quindi, tenuto conto che... Però posso buttare sulla falce... Che per il momento è ancora la mia arma prefe. Dato che posso rompere le palle attraverso le pareti. Potenzia. Io ne faccio un'altra. Vado a 259 più 30. È veramente... Pochino. Eh, però... Ok. Adesso ne servono due. Adesso ne servono due. Va bene. No, dai. Va bene così. Pian piano. Quest'arma comunque è ottima. Allora. Adesso noi non possiamo fare nulla. Mi siedo un attimo. Voglio vedere quanti cantuccini c'ho. Aumenta di livello. Eh no. Non posso. Servono 16.000 euro. Voglio parlare con te. Ma sì, ci siamo parlati. Dai. Fantasma della forza. Sono stati il gatto e la volpe... E la confraternita dei conigli neri. No! No! Il gatto e la volpe, traditori bastardi. Ma perché? Vi volevo bene. Mi hanno trollato dall'inizio gioco. Dieci, infatti. Dieci. Presto vedrai l'isola degli alchimisti. Ma attento, stai per entrare in un inferno. Io lo so bene. Oh, cazzo. Ecco perché ti ho risvegliato. Sono molto più di quel che appaio. Proprio come te, astuto ragazzo. Sono pronta per farti vedere la vera me. Oddio, nuda? Sì, sono pronto. Mi fai vedere? No. Eh, me la fa vedere dopo, ha detto. Eh, dopo me la fa vedere. Per forza. Ascolta. Eh, niente. Ho 3.000 euro. Me li tengo un attimo. Vado a suonare la nota e andiamo avanti. Eh, per forza. No, no, no. Col cazzo. No, no. Prima... Andiamo a farci la secondaria, dai. Dai, dai. Andiamo a raccogliere. Magari troviamo qualche gevel. Palude desolata. Vuole parlarmi, lui. Allora, vado prima da te. Sì, sei simpatico. Ti voglio bene. Non mi tradirà anche tu perché ci rimango di merda. E poi... E che cos'è? Amico! Non ti vedo molto... Beh, vabbè, sei il solito. Cosa sei venuto a dirmi? Eh, non so, mi hai chiamato tu. Spiega la rabbia. Va bene. Essere arrabbiati per qualcun altro e da gente coraggiosa. È bravo. Spero di trovare anche io qualcuno per cui essere coraggioso. Grazie infinite. Ma grazie a te, zio. Oh, grazie. Soldi, soldi. Qua c'è anche un ottimo... Cioè, un ottimo punto... Per fare il farmolino. O da te. Intanto non riprendiamo un po'. Ok. Cazzo, adesso vedi? Continua a correre come mormidi. Io c'ho sto cavolo di problema che... Due giochi simili... Due mili. Aia. Vai, vacca, zio. No, non so più i tempismi. Porca puttana il danno. Grazie. 4004. Ok. Non c'ho voglia di star più a farmare. Vado a... Vedere... Da Ugo. Com'è la situation. Secondo me Ugo l'ha ammazzato, lì d'oro. Scommettiamo. Potrebbe essere. Allora, questo era... Ponte. Ponte della palude. Vai. Ah no, ci sei ancora Ugo. Grande. Che paura, Dio bono. Madonna, è entrata... La pazza mi ha fatto cagare in manissima. Grande, Ugo. Ok. Prossima fermata rovina di... Di smenegisto, eh. C'è perché ci torno. Forse ci sto prendendo la mano con questo lavoro. A dopo, cacciatore. Va bene. Ti parlo ancora. Sto cercando di tracciare il signor Lidoro. No, è un coglione. È un coglione. Dopo andiamo a vedere se... È nel solito posto, ma... Non credo. Non credo proprio. Ampolla purificazione. Ma qua c'è una trappola. Palese. E cosa può fare questa trappola, perdonami? Io ci provo, cioè... Da dove cacchio ho sparato, scusami? Non lo so. Ah, da qua! Ok. Vabbè. Ancora un po' di città infame. Ascolta, però... Vale la pena buttarsi giù di là perché è l'unico modo per prendere quell'oggetto. Devo anche controllare che mostri ci sono qua, burattini. No, ci sono le belve. Belva! Allora, ho notato che l'anello importante è sicuramente quello per il discorso dei vari nemici. Sto sbagliando perché non so quello che sto facendo. Vai qua. Ok. Ad esempio, se io togliessi la tecnica e ci mettessi quello delle belve. Dov'è? Qua. Sicuramente gli faccio un po' più male. Ci sarà anche un boss secondario per forza qua. Senti, senti che bestemmia. Ruota dentata. Merda! Che brutto regalo. Buono, però. Buono, dai. Lo sento colento, lo sento. Non so perché. Oddio, però sto pad. Io l'ho resettato mille volte. Niente di uno. Sa da comprare, sa da comprare. A parte che potevo venirvi qua. Non cadere. Minchia, ma c'è proprio una zona. E niente, ragazzi. Facciamo questa in questo video. Magari taglio. L'esplorazione. Sono anche abbastanza arzigogolate. Vado su a vedere per completismo. C'è anche un oggetto. Oh, cazzo. Buono. Merda! Porco. Fai così. Eh, godo, però. Però devo dire che godo quest'arma e godo questo braccio. Molto, molto bene. Ce la siamo cavata. Eh, proprio la città infame. Che palle. Là c'è un oggettino. 4.9. Col salto. Ci si può arrivare, ma... Porca puttana, pad! Vai via dritto, Cristo! La maremma. Rubare. Vado di qua. Da Quino a Punti smarrito. Anche con questo posto contaminato non è rimasta molta... Anche questo posto è contaminato. Il gentile Arrivita mi ha aiutato, ma sa che anche lui non durerà a lungo. Terribili mutazioni dovute agli effetti collaterali del processo di neutralizzazione del morbo pietrificante. Molti abitanti di Krat si trasformeranno in carcasse. I mostri degli alchimisti. I miei amici sono l'unica cosa che mi viene in mente nei miei ultimi momenti. Lumacchio è male. No, Lumacchio! Sofia è scomparso. No. Lorenzini ha perso la speranza. H è morto. Ed eccomi qui, Medoro. Medoro è lì d'oro. Abbiamo rischiato le nostre vite combattute da ogni postazione, ma a volte non ci sono ricompense. Eppure alcune cose sono rimaste. Qualcosa che nemmeno il potere e le bugie possono nascondere. La verità. Mi fa male, lo so. Qualcuno porterà la luce alla verità. Qualcuno svellerà la menzogna. Falso. Fare un passo avanti per coloro che vengono dopo. Credo che questo fosse il mio ruolo. Sono Medoro. Giornalista. Ah, sì, è vero. Era il reporter, il grande. La mia arma era la mia penna e la verità. Ora lascio i miei appunti a voi che visitate questo posto. Da Medoro. Passo e chiudo. Da Medoro è tutto. A voi la linea. Tante care cose. Prendere questo. Ah, è vero. Si saltava così. Ok. Dopo compriamo le nostre robette. Vale la pena tornare su. Direi di no. Trappola del cazzo. Fai così. Complimenti per l'imboscata, eh. Sei stato veramente... Questo è un furbacchione. Sto per cascà. Venga, signora. Oh, questi qua li... Li facciamo... Con sapienza, eh. Pam, pam, pam. È morto. Qualcuno è caduto e morto. Però sento qualcun altro che mi alita sul collo. Grazie. Molte grazie. Madonna che labirinto. Sto pad mi fa impazzire. Non sono io, è deficiente che continuo a guardare a sinistra a scatti. Anche perché ha una sensibilità totalmente differente da quella che ho impostato in game. Si gode soprattutto sai dove? Su Call of Duty. Questa cosa. Puoi volare giù? Eh no. Allora fai così. Ma è così. Siamo a... In teoria si dovrebbe ricaricare un po'. Quando uccidiamo. Merda. Molto buono. Uh, tesori aghi. Let's go. Iiiiiiii. E poi non ho messo l'altro quarzo. Sono scema. Ah. Ma cretino. Mi sono incastrato. Merda. Eh, dovrei stannarti. Ma fa lo stesso. Va bene così. Frammento di stella non lo voglio. Curarsi. Buono. Levighiamo qua. Come si faceva? Così. Devo anche tenere in mente che so... Il combattimento col boss da metterli, eh. Massimo taglieremo in due questo appuntamentino. Allora, qua sarebbe meglio salire. Ma anche no. Posso andare di qui. Il saltello abbandona l'idea instant. Quindi saliamo, saliamo. Vado di qua. Potrei andare di qua. Perché se sa, go. Dove ritorno. Fammi vedere. Se vado di qui, torno sul tettuccio. Mi posso fare così. Così. Qua salire per forza. E poi dopo ci butteremo giù. Madonna, ma è enorme. Cazzo, pensavo... Vai dentro, boffatta. C'è sempre l'inchiappettata. Grazie. Continua a darmi roba elettrica. Figa, addirittura c'è lo stargazer. Ma veramente? E la peppina? Addirittura. Allora, raccolgo il raccoglibile. Poi dopo... Cazzo. Torna su. Puoi vedere... Bravissimo. Un genio. Un ninja veramente... Delle... Arti illusorie che fanno gole. È arrivato, eh. È arrivato Giampiero. Tanto ti faccio così. Ho la falce del... Monsignore. Abbiamo anche un po' di soldi. Dopo vado a comprare altre robe. Zero livelli al mese. Ma non mi interessa. Oddio! Ma chi è? No, Dio Cristo. Che male. Ok, io faccio così, eh. Ma mai preso? Dio Cristino. Oh! No! Ma volevi. Godo. Godo. Fortuna ho commesso l'anello, eh. Eh, volevo mettere l'anello. Per forza. Quarzo, 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 quarzo. Dai. Fammi un regalo. No, una spada. Lama del taglierino d'acciaio nero in pugnatura del taglierino. Eh. Quella l'ho buttata su a dieci. Eh. L'adoro. Ma proprio per... Per malinconia di non poterlo usare più. Però... Anche metterci un manico da spada rimane comunque lenta. Non ne vale la pena tantissimo. Ascolta, torniamo indietro. Questo qua risponerà a moh. Dio Cristo, signora. Ma lei è fuori. No. Minchia. Buono questo. Buono. Bravo. Bravo. Sei stato bravissimo. Bravo Pinocchietto. Orca puttana, l'ho visto. Arrivederci. Deperimento. Mi curo. Basta eh, trappole. Eh, questa... Ecco, questa potrebbe essere un problema dove ce l'abbiamo? Questo è un problema perché non capisco che cosa mi potrà arrivare addosso. Però posso fare anche un po'... Eh... Quella la salirà la scala? Probabile, eh? Non ho nulla da tirargli. Non ho nulla da tirargli. Lo... Lo mettiamo subito all'oggettino. Così. E fai così. Venga, signora. Attivi lei la trappola perché... Non mi va bene. Venga. Signora, venga, per l'amor di Dio. Dai! Ma non viene! No, no, no. Eh, ma c'ho paura, sai? Questo secondo me si sfancula tantissimo. Questo si rompe se mi butto giù. Ma si rompe... Easy. Allora, facciamo una roba da furbetti, va. Intanto. Uno. Eh, niente. Mi tocca tirarcene in altro. Ok. Questo te lo cucchi te. Oggi siamo tranquilli. Venga, venga. Dai, ragazzi. Ma siete tutti matonna. Morti ambulanti proprio, eh. Morti al... Dissonanti. Ho qualcos'altro a tirare. No, niente. Quella me la tengo, che è buona. La catena è buona, ma... Da vicino... E glielo stanno lì. No, gliene frega nulla, eh. Eh, ma qua secondo me faccio malissimo. C'ho l'anello del gatto. Eh, l'anello del gatto. Per forza. Mettere. Dov'è il micio? Dov'è l'anello del gatto? Lo vedo. Ma lo qua. Eh, è l'anello. Ecco, funzionato. Cazzato questo. Venga. Capitana. Allora, togliere subito l'anello del gatto. E carcassina. Buono. Di qua? Non lo so. Prima vorrei fare questa zona. Prodo. Qua adesso mi vuole fare la... La fantomatica presa da dietro. Niente, dorme. Cazzato. E se io salgo di qui... Ah, sono lì. Allora, guarda, faccio così. Uno, due e tre. Buah. Facciamo così. Godo. Aspetta che c'è il muro. Vabbè, quest'arma è ottima per quei discorsi qui, eh. Che... Alcuni attacchi... I muri non contano le hitbox, quindi... Non vengono contate e godo. Allora, sostanzialmente qui siamo a posto. Merda. Un momento in volo giù. Me, cos'è? L'acqua è strana. Non so da quando ho iniziato, ma anche le mie lac... È porco. Ma anche le mie lacrime e il mio sangue sono diventati blu. Eh, nobile. La nobiltà. La farfalla turchina mi ha fatto una rivelazione, la farfalla. Mi ha chiesto di liberarla da questa... Da questa prigione del tempo. Se c'è già il boss me ne vado, eh. La fatta è lontana, la fatta sta piangendo. Le lanciate l'orologio. L'hanno girato senza porco del... Senza sosta per trovare il futuro del ragazzo. Tu, eh... Bubonato. A parte che... A parte che io potrei fare così. Zitto, zitto e cacchio, cacchio. Se sei da solo, ci provo. L'ho già affrontato questo. Non rompi i coglioni. Io continuo così. Ah, merda, fin trova stamina. Porca puttana. Eh, non... Finiti i tempismi, per forza. Venga. E si incastra. Buono. Ho preso anche fuoco. Buono. Gli è scoppiato. E ti saluto. Eh, ottima, è ottima. Quest'arono è veramente ottima. Forse è meglio finirla qui? Era lui. Misti era. Finché va ancora bene. Eh, è lui che parla? Eh, è il vecchio mutato? È il mutagino, eh. Eh, i dischi poi mi fanno prendere il copyright, ma... L'ho detto 57.000 volte. Adesso me li ascolto tutti per cazzi miei. Non ho mai fatto. Allora, proseguo, allora, ancora. Lascio qui le parole della farfalla. Ricorda, sei un essere umano. È il momento di liberarti dai tuoi fili. Ah. Uh! Bello, il momento topico. Bram! Boh, aperta, eh. Mi dai un altro quarzo, per gradire? Sì! Abbigliamento da caccia del gatto nero. Allora, il nostro outfit è differente, è molto bello, eh, devo dire. È molto bello. Adesso andiamo a prenderci i quarzi, però. L'abbigliamento da caccia del gatto è un completo rubato da alcuni ladri a tratti della sua qualità. Da gatto che aveva vissuto da solo nei bassi fondi non si fidava di nessuno, se non di se stesso. Tuttavia la sua opinione cambiò completamente quando incontrò la volpe innamorato. Molto carino. Sei molto carino, ma il mio outfit penso che rimarrà questo qua, perché così siamo proprio strabilianti e andiamo un casino quest'anno, proprio, eh. Quindi è finito? Quindi è finito. Io dicevo anche l'abito di quel bambino. Ma è finita la zona? Ma sono scemo io o... Pensavo che avremmo trovato un boss proprio. Vabbè, questi qua sono mid-boss. No, qua è chiuso. Guarda, se abbiamo fatta, sono anche contento. Possiamo chiuderla qua con qualche taglio. E dopo noi ci rivediamo per la zona nuova. Nuova, sì, qua è fatto. Ragazzi, è fatto. Quindi, senza indugio. Usa. Torniamo all'hotel. Anzi, sai cosa facciamo prima? Andiamo a vedere se c'è quel deficiente di Alidoro. Ci vediamo fra poco. Ovviamente Alidoro non c'era, giustamente. Amica sta lì ad aspettarci. Noi abbiamo preso le robe, quindi siamo contenti. Non mi dice più nulla, no, tu? No, tu no. E tu nemmeno. No, non cambio adesso. Vado ad acquistare l'acquistabile. E poi mi butto su ancora il Quartus. 15.000, eh, cazzo, non ne riesco a prendere due. Però posso fare così. No, col cazzo che ti do il quartino, eh. Sei matto, 100 euro. Però ti do anche un mozzicchino, per gradire. Voglio, voglio questa. Dai, per po- Per così poco. Mi mancano 600 euro, no? Vendere qualcosa, dai. Ok, 8.000. Dammi anche l'altra palla. Buono. È solo che non ho soldi per farmi le armi. Ma che palle mi tocca far ma... Vabbè. Vado a vedere se adesso posso fare un livello alla falce. Assolutamente sì. Ma mi mancano i soldi ancora. Maledetto, ma... 2.89 incomincia a essere ranzolla. E questa? Questa non è neanche troppo pesante. Tempesta difendenti. Parata in guardia. No, non mi piace. Va bene. Niente, mi faccio le robine per cazzi miei. Poi magari azioniamo il pianoforte insieme. Mettiamo i quarzi, dai. Poi ci salutiamo. Ci stiamo dilungando anche troppo. Sono contento che ne abbiamo... Ho detto, cazzo, non ne troveremo più. Adesso me ne hanno droppati 2 o 3 in stecca. Uno l'abbiamo comprato. Però va bene così. Va bene così. Abbiamo un po' più di sbilanciamento. Quindi questo me lo piglio. E qua abbiamo detto che ci mettiamo... Facevo... Miglioro l'attacco con attacco fatale. E se io facessi questo? Si va... Si sommano. Eh, questo non posso metterlo. Eh, io farei... Aumenta il tempo degli effetti. La durata dello sbilanciamento. Migliora l'attacco. Faccio più danno quando... Ok, che sternare anche i boss ci vuole del tempo. Però, eh, una volta capite certe cose... Anche perriando... Dai. In teoria qua si dovrebbe sommare. Dovrei avere molto più tempo, no? Ho ancora due quarzi. Questi li abbiamo completati tutti. Queste qua sinceramente non è che mi interessino granché. Proviamo a vedere qualcosa qua. Aggiungi slot braccio legione, no. Conserva, recupero guardia, non mi interessa. Aumenta l'intervallo di sbilanciamento. Ancora. Proviamo a motor su questi. O aggiungi... Ma che coglione! Ma questo qua tutta la vita! Ma tutta la vita! Voglio questo io! Altro anellino, dai! Se ne abbiamo due, un altro quarzino lo troveremo. Speriamo, se no è un casino. Aumenta la durata dello sbilanciamento. Eh, perché... Posso continuare a picchiare io per un... Per più tempo? Uno... E l'altro... Riduce i danni quando è scarica. Eh, mica male! Andiamo a vedere giù. Resistenza... Ripristino recupero guardia con guardia perfetta. Ah, cazzo! Riduce i danni in caso di schivata. Capacità. Capacità tutta la vita! Becero! Signori! Ci vediamo alla prossima. Vorrei fare un emoticon. Però sono... Comodissima. A me ci provo. Ho sbagliato tantissimo. Ho sbagliato di nuovo. Dove merda è? Dio! Applausi per fibra. Alla prossima, belli miei! Ciao! Grazie! Ciao!